L'idea è decisamente semplice, formare nuove professionalità sul territorio che abbiano la possibilità di lavorare in ambito culturale turistico. Un corso di alta specializzazione in tecnica terziaria che si svolgerà ad Andria nel cuore della Puglia Imperiale e promosso dall'Istituto Tecnico Superiore Regionale per l'Industria dell'Ospitalità e del Turismo della Fondazione ITS in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Bari al Domoro. I ragazzi dovranno essere conoscitori del territorio a 360 gradi, dovranno essere anche capaci, essendo dei tecnici, di ricoprire posizioni di front line e quindi tutte le aziende di qualunque genere che riguardano l'accoglienza turistica dovranno avere le competenze, le conoscenze idonee a interfacciare un turismo che è un turismo d'élite, un turismo di qualità, anche perché la strategia del nostro territorio è quella di puntare su un turismo culturale e il turismo culturale richiede sempre una qualità dell'interlocuzione. Ieri il primo incontro ad Andrea all'interno della Sala Consigliare di Palazzo di Città, nel quale, oltre alla presentazione dell'idea alla base del corso, è stato tracciato un primo bilancio di confronto tra i diversi interlocutori chiave del settore turistico del territorio, sia pubblici che privati. Questa è una fase adesso di brainstorming con le imprese e gli stakeholders del territorio, più in generale, per raccogliere quelle che sono le esigenze primarie del territorio e quindi tarare il corso e progettarlo, l'università è al servizio del territorio, è la terza missione dell'università. Tanti gli enti coinvolti e dal termine dell'incontro sono state anche raccolte le diverse manifestazioni di interesse e sede organizzazioni interessate a collaborare con la Fondazione ITS Turismo, territorio che cerca vie nuove per incrementare possibilità ed opportunità attraverso le proprie peculiarità. Turismo e cultura sono alla base di un percorso virtuoso che deve necessariamente partire dalla formazione di nuove professionalità per essere un vero volano di sviluppo assieme all'azione amministrativa. La formazione rappresenta un obiettivo a cui bisogna inevitabilmente lavorare per cercare di creare le condizioni per avere persone che siano formate, poter attirare, attrarre investimenti e quindi anche mettere in moto uno sviluppo da un punto di vista turistico-culturale. È evidente però che non ci si può approcciare con l'approssimazione dell'improvvisazione ma bisogna approcciarsi con la formazione attraverso una formazione costante che deve essere fatta da coloro che per non solo professionalità ma anche per esperienza consolidata hanno queste qualità.